In questi tempi duri, ci tocca stare in casa, e tanto per passare il tempo ci ha trovato una maniera. E una vera maniera di passare il tempo è forza di imparare a parlare a corso, di parlare con i suoi, con i figlioli. E per questo che ho risposto la chiamata dell'amico Lissandro Zelli, di pratica lingua, che mi ha chiamato per l'operata confinamento. E dunque mi ho previsto un programma di attività per i zidelli, per i rendi, letture, musiche, sfide davvero che il periodo di confinamento fosse il meno venibile possibile, e che soprattutto la nostra lingua ci permette sempre di avere una comunità pura, senza avere, ma di stare tutti insieme a distanza. Un sangue scicca una gica stiacciata e scioppa su masciolendo. E questo è solo le lingue, la faccio la falibiano, e di più di più un fuori. Un sangue scicca una gica stiacciata e scioppa su masciolendo. E ha visto i nostri buoni occhi, e ha saidei, canzoni, poesie, gente che parlava in corso così, e una bellissima maniera, e ha visto in una donna che ha detto ora, a due tempo, una di più scusi. E' esattamente quello, parla di corso, scriviti, parla di incuiostri, ora, a tempo e l'occasione è che la campana la nostra lingua. Ma ti, ciò che tu vuoi, e balla la nostra terra questa gima ai muli, in cento di tornelli ci cantano la cieli, è finita la guerra, è finita la guerra. Ma non è meglio, eh? Ehi, allora, se volete venire qui a operare da confinamento, ogni anno ci sono esercizi e ci puiamo campare, in co'abudanza da ricormeda. A presto, a operare da confinamento.